Musica Buongiorno e benvenuti al nostro Tg del mattino a San Salvo. Ieri l'ultimo straziante saluto a Gloria Grigoli, la ragazza di 17 anni morta in un tragico incidente alle porte di Campobasso. Quanto è fragile la nostra vita come erba che secca, ha detto commosso il parroco Don Raimondo Artese durante l'omelia. Sentiamo Andrea Nasillo. Un sorriso contagioso, piena di vita e di energia, nessuno può darsi pace. L'ultimo doloroso saluto a Gloria Grigoli, la famiglia, i tanti amici, due comunità sotto shock, San Salvo, dove viveva, e Trivento, paese d'origine. La chiesa di San Giuseppe non è riuscita a contenere le tantissime persone. Un tragico destino, sabato scorso, sulla strada Ingotte, a pochi chilometri da Campobasso, ha spento per sempre una giovane e brillante vita di 17 anni, che oggi rivive nei ricordi, nell'affetto di tante persone. Mamma Angela stringeva forte la foto della figlia, negli occhi di papà Medeo Lo Strazio. Anima buona, così tra lacrime e singhiozzi, l'ha definita la dolcissima sorella Giorgia in una lettera d'amore. Gloria ha lasciato un segno fortissimo, quanto è fragile la nostra vita come erba che secca. A volte siamo concentrati sui nostri obiettivi e non vediamo il disegno di Dio. Una lunga omelia di Don Raimondo Artese, anche lui commosso. Parole profonde, lette in chiesa, anche da due cugine e da un capo scout. Tutti i volti affranti, all'uscita, così come all'entrata del feretro in chiesa, l'ultima poesia, la canzone preferita di Gloria. I palloncini liberati in aria, bianchi ma anche azzurri, il suo colore preferito. Grazie. Grazie. Il nuovo comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, cresciuto a Venafro e legato alla città dove il padre è stato storico comandante della stazione. Ieri la cerimonia di avvicendamento con l'uscente generale Teo Luzzi e Luongo, nel suo discorso, ha ricordato anche Venafro e dalla città molisana anche una delegazione presente, una delegazione con a capo il sindaco Alfredo Ricci. Il servizio. Il generale Salvatore Luongo è ufficialmente al vertice dell'arma dei Carabinieri. È lui il comandante generale, un orgoglio per il Molise e per Venafro, a cui è legatissimo e dove è cresciuto a Roma, nella caserma salvo d'acquisto, alla presenza del ministro della difesa Guido Crosetto, la cerimonia di avvicendamento con l'uscente generale Teo Luzzi, che Luongo ha salutato con ammirazione, amico e collega di lungo corso. Nelle parole del nuovo comandante generale dei Carabinieri, l'orgoglio del ruolo che adesso ricopre a servizio della patria, della gente e come guida di tutti i Carabinieri d'Italia, l'impegno a collaborare con le istituzioni a tutti i livelli, il sentito ringraziamento ai comandanti che ha avuto, ai colleghi e in riferimento al Molise e al padre storico maresciallo a Venafro. Ho chiesto di essere presente tra noi e li ringrazio sentitamente i sindaci dei comuni di Navelli, un paesino in provincia dell'Aquila, e Venafro, provincia di Sernia. Due paesi, due comunità a me molto cari, due piccoli lembi del territorio nazionale, dove mio padre, da comandante di stazione, ha trascorso circa 40 anni di servizio. E in quelle stazioni io sono cresciuto, tra quei Carabinieri li ho vissuto, respirando lo spirito più autentico dell'arma. Nel suo discorso ha esaltato la territorialità, il lavoro di comandanti e militari delle stazioni, come baluardi di quei valori che caratterizzano l'arma, servizio e vicinanza alla gente, onestà, lotta al malaffare, garanzia della sicurezza. Voglio ricordare però in particolare un maresciallo comandante di stazione che, pur avendo difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena per la propria famiglia, si prodicava a ospitare nel proprio alloggio bambini di strada per offrire loro un pasto caldo. Era un vero tutore dell'ordine, un militare dalla schiena dritta, ma al tempo stesso un uomo di straordinaria dignità, con un enorme attaccamento alla sua comunità e con un innato senso della giustizia. Quel maresciallo riuniva in sé, nel suo agire, tutti i valori dell'arma, la generosità, il coraggio, l'empatia, l'inedita attitudine ad essere vicino ai più bisognosi. Nei tempi in cui viviamo, ha dichiarato il ministro Crosetto nel suo intervento, le istituzioni hanno bisogno di sentire una sicurezza sempre più forte, ne hanno bisogno i cittadini, questi ultimi hanno bisogno dell'arma, di ognuna delle 7.000 stazioni di simboli di legalità. Anche Crosetto infine ha sottolineato come la caserma di Venafro sia stato il terreno fertile per la formazione professionale e umana del generale Luongo per lo sviluppo di tutte quelle doti, non solo lavorative, che oggi gli sono valse la nomina. Tutto pronto a Civitanova del Sannio per San Martino nelle vecchie cantine. L'evento organizzato dall'Associazione Civitanovesi nel mondo in collaborazione con il Comune e la parrocchia di San Silvestro Papa. Questa sera un percorso nel centro storico del paese per assaggiare i migliori vini delle cantine molisane e del Sud Italia tra musica e piatti della tradizione contadina regionale. Tra le novità il codice QR Code. Per avere la mappa dell'evento sul telefonino, invece i torciatori di San Giuseppe come ospiti apriranno la manifestazione. Dunque questa sera alle 18.30 insieme agli indocciatori di Civitanova. E tutto termina qui il nostro Tg del mattino, adesso la rassegna stampa. Con Nicola Marcogliese in regia vediamo come titola il giornaledelmolise.it San salvo l'ultimo straziante, saluto la 17enne Gloria Grigoli. Poi autonomia differenziata, esultano le opposizioni, avevamo ragione noi. Il presidente della regione Roberti dice la riforma è legittima. Termoli convegno dal titolo nessuno escluso, povertà educativa, cura, responsabilità e futuro. Poi trasporto su gomma per portatori di invalidità. Il comune di Trivento informa sulle modalità di richiesta. Illumina novembre lotta al cancro al polmone. Il comune di Termoli splende di bianco. E poi le altre notizie. La carita stiocesana di Trivento partecipa alla giornata nazionale della colletta alimentare. Guardia medica a Singhiozzo. Sei sindaci scrivono all'Asrem. E ci sono poi tutte le altre notizie sul giornaledelmolise.it. Vediamo adesso come titola invece informamolise.com Progetti di valorizzazione e aperture straordinarie dei luoghi della cultura statale anche in Molise. E poi altre notizie. Sicurezza sul lavoro. La Will Molise porta 102 bare in piazza lunedì. E poi vediamo le altre notizie ancora che riguardano anche l'Italia. e il Molise Porto Cannone, sospensione flusso acquedotto basso Molise. e avvia la collaborazione istituzionale tra la Molisano e il gruppo Responsible. Anche a Boiano, sospensione idrica. Contributi per abbattimento di barriere architettoniche nelle attività commerciali. La richiesta di Fratelli d'Italia. Passiamo adesso alla News della Valle. News della Valle Alto Sangro. Con diverse notizie. Con il prefetto Montella in visita al comando provinciale dei vigili del fuoco di Isernia. E sempre a Isernia gli alunni dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII. Si vanno preso parte al progetto Ragazzi in campo, dalle olive all'olio. Automobilismo su percorso federale sul circuito Vallelunga. Il molisano Gino Rocchio selezionato per provare l'ebbrezza della Formula 4. e calcio legare in programma nel fine settimana. Lega Pro, Girone B, Serie D, Girone F, eccellenza promozione prima categoria, Girone A, Molise. E poi l'amministrazione comunale di Venafro presente alla cerimonia di avvicendamento del generale dei carabinieri Luongo. E poi ci sono tutte le altre notizie su News della Valle Alto Sangro. Vediamo come titola Primo Piano Molise, il quotidiano del Molise. E' un emendamento per salvare la sanità. Il decreto Molise porta la firma della deputata Lancellotta via i commissari dal 1 gennaio 2025 ed eroga al Balduzzi e 60 milioni per ridurre il disavanzo. Così scrive Primo Piano Molise. E poi la mobilità arriva dagli istituti di ricerca e cura. La mobilità attiva degli istituti di ricerca e cura non viene più considerata debito, proposta collegata alla legge di bilancio. E poi cambio al vertice dell'arma. Si è insediato Salvatore Luongo, l'alto ufficiale originario di Venafro, da ieri comandante generale dei carabinieri. E a Roma, alla cerimonia anche il sindaco Ricci. Pesca, armatori in affanno, pressing su Bruxelles. E poi Campobasso, Albino e il ministro Giulio conferma lavori in corso per la riapertura. Arrivato l'inverno, termometro giù, prima neve a Campitelle e Capracotta. Rapido passaggio della perturbazione balcanica. Altre notizie ancora. Roberti si prende anche Legam, Ricci eletto presidente a San Salvo. L'ultimo viaggio di gloria sulle note di Giollier e ultimo lacrime e dolore ai funerali ieri della ragazza di 17 anni morta in un incidente su Ingotte sabato scorso. Originaria di Trivento, viveva con la famiglia a San Salvo. Poi Campobasso, crisi idrica, salvi i ristoratori nel fine settimana, chiusura posticipata a Luna. E poi il punto di Michele ed Alessandro, ascoltare il grido dei poveri e il contributo nella giornata della colletta alimentare. Per quanto riguarda invece le notizie di sport, Campobasso, le sensazioni di Lombari, sarò pronto a sfruttare tutte le opportunità. Dunque calcio, poi eccellenza, il turno del big match al Ditella alle 15, previsti due anticipi. Per quanto riguarda il Futsal, trasferta siciliana per il CLN Cus Molise, atteso dall'incrocio a Melilli. Quotidiani nazionali, vediamo come titola il Corriere della Sera, riparte il dialogo con Putin-Scholz. Un'ora a telefono con lo Zar, ferma la guerra. La richiesta, il disappunto di Zelensky, la mossa dopo l'elezione di Trump. Berlino, manterremo i contatti. Il Cremlino dice pace solo con nuovi confini. Poi politica, attenzione sull'autonomia, Mattarella, io arbitro e ho firmato leggi che penso sbagliate. Queste le dichiarazioni del Capo dello Stato e gli incidenti. Meloni indegni, scelai in solidarietà agli agenti, sangue sui volti dei politici, scontri ai cortei degli studenti. C'è questa foto, scontri tra studenti e polizia sotto la prefettura di Torino durante la manifestazione del no Meloni dei Roma. I permessi negati ai medici, Margaret nel centro, era proibito operare i genitori. Mai più, dunque, la vicenda della 22enne Agatha Margaret. E poi ancora le altre notizie, perché dicono al ritorno del nucleare l'intervento del sindaco di Milano, di Beppe Sala. Passiamo adesso alla Repubblica. No ha troppo potere, il titolo con il virgolettato, ed è il richiamo del Capo dello Stato Mattarella. Il Presidente della Repubblica risponde ai giovani sulla democrazia e sul conflitto tra gli organi dello Stato. Le regole si rispettano, nessuno invade il campo di altri. Ho firmato leggi che non condividevo. Salvini a Meloni, se cade l'autonomia, si ferma anche il premierato. Dunque, questo è il dibattito e Massimo Giannini scrive la vecchia Europa che sbanda davanti a Trump. E anche qui la notizia della protesta. Studenti in piazza, scontri a Torino e poliziotti feriti. Blitz di teppisti in sala per il film su Berlinguer. Invece l'articolo di Concita De Gregorio. La guerra in Ucraina, Scholz telefona a Putin. L'ira intanto di Zelensky. La stampa di Torino, Mattarella. Ho firmato leggi sbagliate anche qui in evidenza. Questa notizia con le dichiarazioni del Presidente della Repubblica. Ma era mio dovere. Ha continuato. Nessuno abbia troppi poteri. Dai reva i migranti, i decreti nel mirino. Autonomia, la Lega sfida, la consulta. Tensioni con gli alleati. Ciriani, dice, Parlamento impegnato a fare altro. E poi la prima intervista del Ministro della Cultura, Giulie, dice, io i tatuaggi di pace, il mio piano, Olivetti dunque. Un'intervista con i programmi. Scuola, protesta sfregiata. Studenti in piazza contro la premiera. Torino scontri. Monumenti imbrattati, mole, occupata. Ci sono poi i commenti sui fatti di Torino. E poi c'è ancora un approfondimento sulle elezioni negli Stati Uniti. Dal capo degli 007 al Novak Kennedy, la squadra di Trump. Tendenza putiniana. E ci sono poi le varie analisi. Passiamo adesso al tempo. I fascistinesi, il titolo. Violenze al no, meloni dei, altro che studenti pro-Palestina. Scontri, insulti, agenti feriti. Mani di sangue sul volto del Premier. E poi la mela non cade lontano dal Raimo. è il titolo del commento di Tommaso Cerno. E poi ancora altre notizie. Trump mette Kennedy Junior alla sanità. E idem, di speranza, si indignano. Il Covid è la svolta negli Stati Uniti. Ora avremo le risposte. La nuova commissione dell'Unione Europea. Ursula impanne. Mattagliani sblocca il caso Ribera. Martuscello, il 27, fitto, sarà vicepresidente. Passiamo adesso al messaggero. Scholz chiama Putin. Unione Europea divisa. Telefonata Berlino-Mosca dopo due anni. Ritira le truppe dall'Ucraina in negozi. Allo Zara accordo solo con i nuovi territori. Le liti sui commissari paralizzano Bruxelles. Telefonata dunque Scholz-Putin dopo due anni. E poi l'editoriale di Giuseppe Vegas. Manovra Baruffe e confini stretti. Autonomia. La Lega sfida la consulta. Fratelli d'Italia e Forza Italia frenano. Si vada in Parlamento. La pronuncia sul federalismo cambia intanto l'agenda. Margaret. La verità arriva dall'autopsia. Stavano operando. Sotto esame i segni rinvenuti sul naso della vittima. La regione, quello studio, non aveva i permessi. E poi il film di Sorrentino. Sbanca il box office. Parla Celeste della Porta. La protagonista libera e malinconica come partenope. Vediamo adesso il Fatto Quotidiano. Le regioni di centrodestra si moltiplicano gli assessori. Vertice segreto con Bucci e Tesei. Per portarli da 7 a 9, scrive il Fatto Quotidiano. E poi il report inedito. Ricostruzione aziende decise dagli States. Così Stati Uniti e Company ingrassano. Sull'Ucraina devastata la lista dei colossi. Camera di Commercio, Stati Uniti e Banca Mondiale spartiscono i business. Intanto Scholz sente Putin dopo ben 33 mesi. Ritirati e negoziamo. Il Novak Kennedy Junior alla sanità. Trump completa le nomine pazze. Scrive ancora il Fatto Quotidiano. Nichols, The Nation è l'ultima sfida ai repubblicani in Senato. Poi ci sono tutte le altre notizie. I 3200 emendamenti, manovra 2025, AC, Hotel, Jets e clientele locali. E poi cortè in tutta Italia. Nome Lonidei, la rabbia dei giovani e assalto ai panini. Libero, violenze al nome Lonidei. Somari Rossi è il titolo forte di Libero. Gli studenti bruciano il fantoccio di Valditara. Innalzano foto del premier insanguinato e fanno il gesto della P38. Feriti intanto 20 poliziotti. E qui ci sono le foto. Torino brucia il fantoccio di Valditara. C'è la foto. Ragazzi che fanno appunto il gesto che richiama la P38. E poi le facce di Meloni e Bernini sporche di sangue. Caso fitto. Il Colle manda in tilt la Jline. Mattarella ho promulgato leggi che non condividevo. L'appoggio del capo dello Stato allarga il solco a sinistra tra istituzionali e barricaderi. Zaia, Veneto, sull'autonomia andiamo avanti. Tesei, Umbria, sanità sfasciata dai progressisti. E poi ci sono tutte le altre notizie. L'editoriale di Daniele Capezzone. Stati Uniti e Argentina pronti al decollo. L'Europa intanto è ferma. Vediamo adesso il mattino. Palestri al sud del 72% dei fondi. Cambio di paradigma. Gli investimenti nel mezzogiorno e autonomia. La parola passa al Parlamento. La Lega pronta a sfidare la consulta. Forza Italia e Fratelli d'Italia intanto frenano. Bruno Vespa nel punto dice il doppio assist a favore di Giorgia. E poi ci sono varie interviste e approfondimenti. E anche qui la notizia. Scholz chiama Putin. Unione Europea spiazzata. Avvenire. La Chiesa allunga il passo. Il titolo in evidenza. Il quotidiano dei Vescovi. Zuppi apre la prima assemblea sinodale. Lavorare con pazienza e intelligenza per l'unità del Paese. Il messaggio del Papa. I mille delegati riuniti in San Paolo fuori le mura. Serve compassione per preparare il futuro senza paure. Valencia sola nel suo fango a due settimane dall'alluvione. Tra ricostruzione al palo e rabbia dunque. Ancora emergenza in Spagna. Cristiani per il bene di tutti. La grande sfida del qui e ora. È il titolo dell'editoriale di Liut. E poi ci sono le altre notizie. Scuola alla protesta passa il limite. Scontri e slogan nel nome Loni Day. Studenti in strada in 35 città. Torino 15 agenti in ospedale. I due poli chiudono a Terni. La sfida Umbra. Domani e lunedì si vota anche per l'Emilia Romagna. Vediamo il secolo d'Italia. Superbonus. Rissa PD. Movimento 5 Stelle. Sanno di essere alleati alle regionali. È il titolo dell'editoriale. Poi Guerriglia a Torino. 20 poliziotti in ospedale. Meloni. Ora basta. Da Rubio a Wiles. San Giuliano racconta i gladiatori di Trump. E Zavorra superbonus per i conti. Ecco cosa ha detto Gentiloni. Il manifesto Sergio Leone è il titolo. I poteri dello Stato rispettino i limiti di fronte a una maggioranza che rompe gli argini e criminalizza chi non si allinea. Il presidente Mattarella è costretto a intervenire ancora con sempre maggiore chiarezza. Ho promulgato anche leggi che non condividevo ma era il mio dovere. Un governo violento attacco al dissenso e reazioni necessarie. È il titolo dell'editoriale di Alessandra Algostino. E poi studenti antipremier Fratelli d'Italia. Ora basta. Piazze piene e cariche della polizia al nome Loni Day. La destra con il DDL Sicurezza. La finiranno il delirio del sottosegretario del Mastro. La disobbedienza di chi non respira più. E poi ci sono tutte le altre notizie sul manifesto. Vediamo la verità. La sinistra scherza col fuoco e manda i poliziotti in ospedale. Non accettano il voto e creano un pericoloso clima di odio. Il riferimento è ai fatti di Torino. Le parole dei vari Landini, Lepore e Raimo scatenano le piazze nel colpevole silenzio. Peggio di Schlein e Compani. Continua Maurizio Del Pietro. A farne le spese sono sempre le forze dell'ordine. Ieri a Torino 20 feriti da un ordigno. Un escalation che fa paura. Continua ancora nel suo articolo. Bel Pietro. Tutte le accuse a Striano ignorate da De Rao. Caso Spioni e Bufera sull'ex procuratore nazionale. Già nel 2020 il suo vice denunciava pratiche anomale. e informazioni sensibili su canali impropri. La maggioranza. Conflitto di interessi. Lasci la commissione. E ci sono poi le altre notizie. Il sindaco di Bologna interprete di un totalitarismo strisciante. Parla rondoni. Sono le sue parole. Poi direttive snobbate. L'Europa boccia il salario minimo. Feticcio del PD e del sindacato. Il centro con le notizie che riguardano l'Abruzzo. Autonomia spacca Abruzzo. I dieci parlamentari e la sentenza della consulta. Che non piace a Lega e Fratelli d'Italia. Forza Italia è cauta. No dal fronte del no. Pidiazione Movimento 5 Stelle. D'Alfonso attacca quella legge una cantonata. Poi incidenti dati sciocchi. In un anno 72 morti. Adriatica strada killer. Il rapporto dell'Istat sull'Abruzzo. Sempre Abruzzo e lavori sotto il Gran Sasso. Traforo. Non c'è pace. Dieci notti di chiusure. Da Teramo all'Aquila. Poi il commento. Un'offesa ai ciechi autentici. E c'è Movide e Orari. Il comune tira dritto. Niente deroghe. A Pescara. Le feste a rischio. Baby Gang picchia un 17enne. Dopo il passaggio passeggiata al centro commerciale. Arrestati due giovani del pescarese. Nella banda anche un minore. Cerratina schianto tra furgone e motorino. 16enne grave. E intanto domani ad Arezzo. Baldini cambia il Pescara. Dunque. Il calcio pronto per il turnover. La gazzetta dello sport. Sei un tesoro. Sinner. Dunque. Si prende la prima pagina. Le 20 e 30. La semifinale dell'ATP. Tra Jannik. La finale delle finals. C'è dunque. Rood. Può vincere 10 milioni in 29 giorni. Oltre ovviamente al titolo. L'ennesimo di questa stagione. Un record. Zverev. Intanto fa fuori Alcaraz. Sinner. Il nostro Sinner. Va in. Vola in semifinale. E sei. Bellissimo. Campionato mai tanto combattuto. Da quanto ci sono. Da quando ci sono i tre punti. Più spettatori allo stadio. Sa chi dice se lo giocheranno in quattro. Napoli, Inter, Atalanta e Juve. Pogba è finita a divorzio con la Juve. E intanto Ranieri e la Roma. Di bala con me. Gioca sempre. Ha detto. Poi domani a San Siro. Italia, Francia. Spalletti avanti così. Può inguagliare Deschamps. E diventare testa di serie di Nation. Intanto l'Italia è già ai quarti di finale. Bene, con la Gazzetta dello Sport termina la nostra rassegna stampa. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise. Come sempre in diretta alle 14 con il Telegiornale. Buona giornata a tutti.